Lavorare a stretto contatto di comito con i partner privati non è un'utopia, è qualcosa di realizzabile. Lo abbiamo verificato nel corso del lungo tour di Città in Scena che approda a Roma per l'atto conclusivo. Tra gli esempi migliori anche quello del Comune di Pellezzano che ha immaginato e metterà in pratica una nuova porta d'accesso verso la città di Sarema. Ha sicuramente un'occasione importante per il Comune di Pellezzano essere presenti oggi a Roma Città in Scena. Ringrazio l'ANCE e l'AS Salerno per l'opportunità che ci è stata data non solo nella città di Salerno ma anche su un palcoscenico nazionale. Presentiamo un progetto di rigenerazione urbana tra l'altro con un accordo di programma che coinvolge il pubblico e il privato. Tra l'altro su un asse stradario molto importante prevediamo la realizzazione per investimento di circa 30 milioni per quanto riguarda la nuova viabilità di Via dei Greci, la nuova porta di ingresso alla Valle dell'Irno, quindi alla città di Salerno sull'area delle cotoniere a Pellezzano, dove tra l'altro è previsto un intervento di rigenerazione urbana e quindi riqualificazione delle aree dismesse delle lavorazioni delle manifatture cotoniere meridionale. Andiamo ad intervenire con un intervento importante attraverso quello che abbiamo previsto tra l'altro nel piano urbanistico comunale che è approvato lo scorso anno. Quindi è un'occasione importante, presentiamo questo progetto di rigenerazione urbana che va sulle misure di sostenibilità e a difesa del consumo del suolo, ma soprattutto cerchiamo di portare avanti anche il potenziamento della viabilità su Via dei Greci, dove tra l'altro è previsto lo svincolo autostradale della Salerno Avellino con l'allargamento, ma poi sono previste diverse insediamenti abitative per circa 800 abitanti su quella zona e quindi c'è bisogno di una nuova viabilità e soprattutto di una nuova porta d'ingresso alla città di Salerno.